Cosa prevede il decreto taglia consumi approvato ieri dal governo e come mai ci sono nuovamente timori di restare senza gas per l'inverno? Intanto ieri l'Europa sembra aver ripreso in considerazione l'ipotesi di un tetto al prezzo del gas mentre l'OPEC taglia la produzione di greggio facendo infuriare Joe Biden. Infine parliamo delle elezioni in Bosnia e della situazione un po' caotica che ne è seguita nel paese. Io sono Andrea Innocenti, oggi è il 7 ottobre 2022 e questa è una mi rassegna, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Sigla! È arrivato il tanto atteso e preannunciato decreto taglia consumi e quindi partiamo proprio da questa notizia. Decreto a firma del ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani, è arrivato ieri nel pomeriggio e oggi tanti giornali cartacei aprono proprio con questo fatto e quindi vediamo come al solito che cosa prevede e poi magari alla fine facciamo un piccolo commento. In realtà ricalca abbastanza fedelmente il piano pubblicato a inizio settembre dallo stesso Mite pieno di errori ai tempi abbastanza marchiani ed inesattezze che già avevamo commentato in una puntata dedicata che si chiamava se non sbaglio il piano dei cingolani sul gas non è un granché, se volete andatevelo a ripescare, di cui questo decreto rende attuativo un pezzetto, in realtà il pezzetto su cui ci sono meno cose da dire perché è quello relativo ai consumi di gas degli edifici e in parole povere prevede una serie di regole da applicare per risparmiare un po' di gas. Ve le dico quali sono così facciamo un po' di informazione utile. Stringendo all'essenziale il decreto dice che il periodo di accensione degli impianti di riscaldamento è ridotto di un'ora al giorno e di 15 giorni complessivi nel senso che viene posticipato di 8 giorni la data dell'inizio e anticipata di 7 la data di fine esercizio. Non ci sono delle date precise per tutto il territorio nazionale perché le date stesse dipendono dalle 6 zone in cui è diviso il nostro territorio a seconda delle fasce climatiche e quindi poi ogni zona ha il suo periodo di tempo in cui possono stare accesi i riscaldamenti che è più lungo o più breve a seconda che la zona sia più fredda o più calda ovviamente. Comunque il decreto garantisce anche una forma di flessibilità ai comuni nel senso che si legge, vi leggo un pezzetto, dice in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe le autorità comunali con proprio provvedimento motivato possono autorizzare l'accensione degli impianti termici alimentati a gas, quindi dei riscaldamenti, al di fuori dei periodi indicati dal decreto purché per una durata giornaliera ridotta. Inoltre ci sono delle esenzioni anche per quanto riguarda le strutture coinvolte ovvero il provvedimento non si applica a luoghi di cura, scuole materne, asili nido, piscine, saune e assimilabili, agli edifici adibiti a attività industriali, artiginali e simili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso ad eroghe ai limiti di temperatura dell'aria, oltre che agli edifici che sono dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili. Queste sono le tipologie di edifici a cui non si applica questo decreto. Per quel che riguarda la temperatura, come vi accennavo all'inizio, il decreto prevede appunto la riduzione di un grado rispetto alle norme attualmente vigenti. I valori di riferimento erano, diciamo fino a ieri, 18 gradi con 2 di tolleranza per le attività industriali e artigianali e 20 gradi, sempre con 2 gradi di tolleranza per gli altri edifici, fra cui quelli abitativi. Si scende quindi a 17 e 19 gradi, sempre con 2 gradi di tolleranza, perché poi questa cosa di gradi di tolleranza non l'ho mai capita esattamente. E questa sì, forse è abbastanza tipicamente italiana, non lo so, smentitemi se non è così, ma la mia sensazione è che sia un po' un vizio del nostro paese abbastanza incomprensibile che le leggi prevedano che si possano sforare i limiti dettati dalle stesse leggi. Cioè, ti dico, la temperatura massima che puoi avere in casa è di 19 gradi, ma se poi fai 21, alla fine va bene uguale. Che, se ci pensate, è una cosa un po' strana. Cioè, se c'è una temperatura massima, quella è la temperatura massima. Comunque, complessivamente, il MIDE stima i possibili risparmi in termini di metri cubi di gas in 2,7 miliardi, gli stessi che erano indicati nella bozza che avevamo commentato a settembre. Comunque, questo decreto arriva in un momento piuttosto complicato in cui nessuno sembra sapere esattamente cosa stia succedendo con il gas. Se ne abbiamo, non ne abbiamo abbastanza per l'inverno, se ci basterà, non ci basterà e così via. Fino alla scorsa settimana, Cingolani rassicurava tutti sul fatto che abbiamo gas a sufficienza per superare l'inverno, indubbiamente. Magari lo pagheremo molto, ma gas ce n'è, non rischiamo di finire al freddo. Poi, tre giorni fa, è successo che improvvisamente si è fermato completamente il flusso di gas in arrivo dalla Russia, che in Italia arriva attualmente attraverso il gasdotto del Tarvisio, e in molti hanno iniziato a sollevare nuovamente dubbi sul fatto che il gas effettivamente basti per passare l'inverno. Ora, il flusso è ripreso, l'arcano fra l'altro è stato svelato, nel senso che c'era stata una sorta di diatriba legale tenuta nascosta fra Russia e Austria sul metodo di pagamento del gas e sulla moneta, anzi, con cui veniva pagato il gas, e la Russia aveva interrotto i flussi per quella ragione lì. Comunque, fatto sta che la questione di quanto gas avremo a disposizione per l'inverno resta in tutto ciò abbastanza un mistero. Ah, se per caso vi state chiedendo come fa a arrivare il gas russo dopo che è esploso Nord Stream 1 e 2, vabbè, il 2 non è mai entrato in funzione, ma 1 era il principale gasdotto che collegava la Russia con l'Europa per il trasporto di gas, andatevi a cercare su Google la mappa dei gasdotti europei e vedete che, ecco, non è che ci fosse proprio solo Nord Stream, ce ne sono un bel po'. In mezzo a tutto questo gran casino, la Commissione Europea sembra aver assunto una posizione più morbida sull'eventualità di imporre un tetto europeo al prezzo del gas, perché altrimenti sembra difficile uscirne. Il cosiddetto price cap è stata la stessa presidente della Commissione Ursula von der Leyen, che fino a qualche giorno fa era stata abbastanza netta sul no al tetto del gas, a fare invece una sua proposta che in realtà addirittura prevede due tetti, non uno. Questo perché il prezzo altissimo del gas comporta due problemi distinti. Il primo problema è che il prezzo del gas è altissimo, quindi è un problema autodefinito, nel senso che il gas costa tanto. Il secondo problema è che, essendo l'elettricità legata al prezzo del gas per un meccanismo che fa sì che, anche se l'elettricità prodotta col gas è una percentuale abbastanza marginale in vari paesi d'Europa, il prezzo comunque viene fatto sulla base, il prezzo di tutta l'elettricità viene fatto sulla base della fonte elettrica più costosa in un determinato momento e quindi tutto il prezzo dell'elettricità si basa poi sul prezzo di quella prodotta usando il gas e quindi ciò fa sì che anche l'elettricità costi tantissimo e quindi si interverebbe separatamente con due misure per tappare questi due, anzi per mettere un limite massimo alla crescita di questi due prezzi che sennò porterebbero a due bollette impazzite completamente. Da una parte si introdurrebbe un primo tetto massimo al prezzo del gas utilizzato per la produzione di energia elettrica con l'obiettivo appunto di ridurre i prezzi dell'elettricità. Questo in vista di una riforma strutturale del mercato che vada finalmente a sganciare il costo dell'elettricità dal gas stesso, riforma che sarà presentata secondo quanto ha promesso la stessa von der Leyen entro la fine dell'anno. Quindi un tetto solo per il gas che si usa per produrre l'elettricità, dall'altra parte invece un tetto al TTF che è il controverso mercato olandese molto piccolo e volatile che attualmente determina il prezzo del gas in tutta Europa. Anche qui si tratterebbe di una misura comunque tampone provvisoria in vista di una riforma più strutturale che affianchi il prezzo del gas dal mercato azionario olandese. Anche in questo caso la Commissione ha avviato i lavori su un indice dei prezzi dell'Unione Europea completamente diverso, complementare a quello olandese per riflettere meglio la realtà energetica europea di oggi e garantire un mercato che ha detto sempre la von der Leyen sarà più funzionante e che favorirà prezzi più bassi. Insomma questo è un po' il progetto, il piano, ancora non c'è un consenso, è solo un'ipotesi, ma comunque c'è un'apertura dell'Europa verso questa direzione. Insomma tutto bene, a parte il fatto che continuo a notare un preoccupante scollamento della realtà nella misura in cui nessuno parla di emanciparsi dal gas e da tutti gli altri combustibili fossili. Non dico immediatamente perché capisco che è complicato, ma nei discorsi politici non c'è mai neanche un, che ne so, momentaneamente oppure in attesa di smettere di utilizzare il gas, cosa che stiamo già programmando, come ha detto la von der Leyen, stiamo già pensando di creare uno strumento per abbassare stabilmente il prezzo del gas, cioè mi aspetterei qualcosa di simile. Invece non c'è niente che faccia pensare ad un più ampio respiro e quindi capisco l'emergenza, capisco la crisi, ma dobbiamo iniziare a mettere un po' di e nei nostri discorsi, nel senso che dobbiamo sopravvivere, ok, dobbiamo sopravvivere a questo inverno, non morire di freddo, ma dobbiamo anche, anzi e dobbiamo anche evitare di peggiorare la crisi climatica e smettere di bruciare qualsiasi cosa. Lo dobbiamo fare praticamente ieri e non lo abbiamo ancora fatto, ma è una cosa che non è più rimandabile, quindi capisco ci sono dei tempi tecnici, ma dobbiamo iniziare a programmare questa transizione il più rapida possibile adesso, non possiamo far finta che questa cosa non esista. A proposito di scollamento della realtà, ecco un'altra notizia interessante che riguarda anche i media e il modo di presentarla da parte dei giornali, perché quasi tutti i giornali presentano con parole tragiche la decisione dell'OPEC di diminuire la produzione di petrolio. L'OPEC, lo saprete, ma insomma ve lo dico, è l'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio, che è un'organizzazione che include 13 paesi fra i principali produttori di petrolio al mondo e che era nata ormai circa 60 anni fa per contrastare quello che allora, parliamo appunto della fine degli anni 50 e i primi anni 60, era il predominio assoluto delle compagnie petrolifere, le famose Sette Sorelle, che lasciavano solo le briciole agli stati dove estraevano e agli altri attori. L'OPEC negli anni però è diventato un cartello potentissimo e adesso decide con una certa autonomia quanto petrolio estrarre e a che prezzo venderlo. Premesso ciò, vi dico brevemente la notizia con le parole di Mauro Del Corno sul Fatto Quotidiano. Scrive, L'OPEC Più, che sarebbe la versione allargata dell'OPEC, ha deciso di tagliare la produzione di petrolio di 2 milioni di barili al giorno. Il consumo medio quotidiano globale è di circa 100 milioni di barili. La sforbiciata è stata voluta dal più importante membro del cartello e primo esportatore al mondo, ovvero l'Arabia Saudita, che spera in questo modo di spingere a rialzo le quotazioni dopo il calo di circa il 20% accusato negli ultimi tre mesi. A favore del taglio della produzione si erano espressi anche gli Emirati Arabi Uniti e la Russia. Si tratta della riduzione più forte dal 2020, la mossa è destinata però a inaspirire rapporti di Riyadh con gli Stati Uniti e l'Europa. Biden ha commentato molto infastidito, non era necessario. Su questo fatto molti giornali appunto hanno costruito storie drammatiche sul voltafaccia dell'Arabia Saudita agli Stati Uniti nonostante la visita di Biden e sul dramma che questo taglio comporterà. Ora giusto per capirci quali i motivi di questa enfasi sono abbastanza semplici. Sono A che meno petrolio in circolazione significa un prezzo più alto del petrolio e dei suoi lavorati, quindi della benzina eccetera e quindi questo arriva in un momento in cui l'inflazione è già alta e questa cosa preoccupa. B soprattutto un petrolio più caro significa arricchire di più la Russia e la sua macchina da guerra e questo vanifica buona parte delle sanzioni perché fa sì che anche vendendo meno petrolio l'economia russa si arricchisca ugualmente o forse direttirà di più. Quest'ultima era anche la ragione per cui Biden aveva girato mezzo monto per convincere i principali produttori di petrolio a inondare il mercato di oro nero in modo da far crollare il prezzo e quindi affossare l'economia russa. Ora tutto chiaro anche qui tutto comprensibile ma di nuovo non possiamo permetterci ma proprio no di fare la guerra alla Russia estraendo e bruciando più petrolio perché è un ragionamento autodistruttivo. Forse farò un paragone un po' improprio ma non è poi così diverso dall'utilizzo delle armi nucleari cioè vogliamo così tanto far male all'avversario, al nemico che poco importa se facciamo male a tutto il mondo noi inclusi e col petrolio è più o meno la stessa cosa. Il petrolio dobbiamo smettere di estrarlo, di lavorarlo, di bruciarlo, dobbiamo farlo ieri come detto prima per il gas e quindi ben venga se l'OPEC anche per ragioni che non c'entrano assolutamente nulla con il clima decide che vuole estrarne di meno e trovo abbastanza strano che i giornali non dico che debbano titolare tutti dicendo ottima notizia l'OPEC taglia la produzione di petrolio ma perlomeno negli articoli che neanche nominino il fatto che questa cosa è in fin dei conti una cosa positiva dal punto di vista climatico e che il petrolio dobbiamo smettere di bruciarlo e quindi non è mai una buona notizia se ce n'è di più e se il prezzo cala. Lo trovo strano da parte dei giornali perché i giornali dovrebbero fare informazioni e spiegare appunto le cose inserendole nel loro contesto e spiegandole nella maniera più completa possibile cosa che non sto trovando da questo punto di vista perlomeno. Va bene cambiamo radicalmente argomento ci sono state le elezioni in Bosnia Herzegovina prima cosa nella puntata di martedì dicevo che le elezioni sarebbero state domenica cosa vera ma col tempo verbale sbagliato nel senso che erano già state domenica la domenica prima quindi scusate per il refuso comunque guardiamo un po come sono andate e più in generale approfittiamone per dare un po uno sguardo alla situazione della Bosnia Herzegovina a quasi 30 anni dalla fine del conflitto e sempre in un'ottica di portare un po l'attenzione anche su luoghi e paesi che raramente occupano le prime pagine dei nostri giornali partiamo dalla fine partiamo dalle elezioni di domenica la notizia è che per la prima volta la Bosnia Herzegovina ha due presidenti su tre che non appartengono a dei partiti etnonazionalisti che vuol dire e soprattutto perché due presidenti su tre perché sì effettivamente la Bosnia Herzegovina ha tre presidenti per garantire rappresentanza i tre principali gruppi etnici del paese questo sistema istituzionale che davvero molto complicato non ve lo racconterò nei dettagli ma è considerato da molti il sistema istituzionale più complicato al mondo è frutto dell'accordo di Dayton accordo che nel 1995 mise fine alla guerra della guerra civile praticamente la guerra più sanguinosa che l'Europa ha conosciuto dopo la seconda guerra mondiale e che segnò la fine della Jugoslavia e vide combattersi appunto i tre gruppi etnici del del paese con il coinvolgimento della Croazia e soprattutto della Serbia che fu poi responsabile dei più gravi episodi di pulizia etnica di violenza di stupri e di tantissimi altri fatti davvero efferati gli accordi di Dayton con cui appunto si concluse questa questo terribile capitolo della storia della Bosnia prevedono la divisione del paese in due entità una è la federazione di Bosnia Herzegovina e l'altra è la repubblica serba di Bosnia e Herzegovina ricordatevi questo nome entità perché lo nominerò varie volte nel corso della puntata e insomma ricordatevi che ci riferiamo a queste a questa divisione in cui è stata separata appunto il il paese a livello istituzionale succede che la federazione quindi la prima entità la federazione di Bosnia e Herzegovina esprime due membri della presidenza tripartita uno che rappresenta l'etnia dei bosniacchi che sono in prevalenza musulmani e l'altro che rappresenta rappresenta i bosniaci croati in prevalenza cattolici mentre la repubblica serba esprime il terzo membro che rappresenta i bosniaci serbi in prevalenza ortodossi quindi sono tre etnie e anche tre religioni diverse oltre a ciò ci sono tutta una serie poi di parlamenti locali sono 12 in totale e in più c'è una figura esterna che si chiama alto rappresentante per la bosnia e Herzegovina che in genere proviene da un gruppo da un paese europeo e c'è anche un suo vice che in genere proviene dagli stati uniti d'america che vigilano sull'attuazione e rispetto degli accordi di l'iton stessi ma hanno anche una sorta di potere esecutivo su alcune questioni e poi fra poco ne vedremo subito un esempio ok si capisce già dalla descrizione che è un sistema molto ingestato ingessato che ha reso il paese difficile da governare per tutti questi anni e che adesso sembra un po più fragile anche perché come dicevamo all'inizio all'inizio di questa di questo argomento per la prima volta due presidenti su tre sono moderati e non nazionalisti parliamo del posto del seggio bosniacco la presidenza vinto da denis becirovic del partito social democratico partito di centro sinistra e moderato che sostiene un approccio meno etnocentrico alla politica nazionale che ha interrotto fra l'altro un dominio di quasi 30 anni del partito nazionalista bosniacco e del seggio dei croati bosniaci scusate dei bosniaci croati vabbè più o meno siano lì vinto dal presidente uscente zelico komzic centrista anche lui è altrettanto moderato e contrario appunto a questa prevalenza forte della questione etnica nella ripartizione politica del paese quest'ultimo ha vinto però fra molte contestazioni perché come si può immaginare è difficile determinare a monte chi ha il diritto di votare chi all'interno di un unico paese immaginatevi che io sono un bosniaco facente parte della federazione di bosnia e zegovina in cui sono comunque appunto si eleggono due presidenti uno bosniaco e uno croato per semplificare chi decide chi voto io non è così semplice quindi sono tanti bosniaci croati che sostengono che in realtà il loro il loro presidente il presidente che occuperà il seggio che spetta loro sia stato eletto anche con il voto dei bosniacchi che sono numericamente di più che quindi avrebbero un po spalmato i loro voti sui sui due candidati il terzo seggio della presidenza quello invece assegnato alla repubblica serba e che rappresenta i bosniaci serbi è andato quello si a a un partito nazionalista è andato al candidato zelika svijanovic candidata anzi del più forte partito nazionalista serbo ovvero l'alleanza dei social democratici indipendenti partito secessionista e apertamente filo russo ora le attuali elezioni erano considerate molto importanti perché spiega il post negli ultimi due anni le spinte nazionaliste e separatiste in bosnia hanno raggiunto livelli inediti principalmente a causa del presidente che ha rappresentato i serbi negli ultimi anni ovvero milora dodic ne abbiamo parlato qualche volta anche sui numerosegno e del suo partito il l'alleanza dei social democratici indipendentisti molto vicino e sostenuto apertamente da vladimir putin dodica sorpresa non si era non si è ripresentato per il seggio della presidenza tripartita ma invece è stato eletto come presidente dell'entità serba ora in tutto questo casino fra l'altro potete immaginare che svolgono un peso anche le tensioni internazionali visto che le diverse rappresentanze sono appoggiate poi da diversi paesi quindi sono la russia gli stati uniti c'è l'unione europea e così via e a complicare ulteriormente le cose ci si è messo proprio l'alto rappresentante per la bosnia der zegovina che al momento è il tedesco christian schmidt e che all'indomani delle elezioni mentre era ancora in corso lo spoglio dei voti ha annunciato un cambiamento nella legge elettorale e imposto modifiche costituzionali a una delle due entità il che se da un lato rientra nei suoi poteri dall'altro è stato letto come un'ingerenza eccessiva un disconoscimento della sovranità del paese e anche tutto questo appunto fatto all'indomani del voto nel momento dello spoglio quindi anche veramente una cosa poco delicata per dirla così come afferma il senior analyst delle european stability initiative sul manifesto l'imposizione delle modifiche alla legge elettorale e alla costituzione da parte dell'alto rappresentante è un atto ingiusto e autoritario un'ombra sulla festa democratica che hanno rappresentato le elezioni di domenica anche ispi online il sito di geopolitica critica asperamente questa modifica che secondo molti cerca di accontentare i croati bosniaci che si sentono sotto rappresentati nell'attuale sistema ma insomma che al di là del merito risulta anche per le tempistiche abbastanza inopportuna tutto ciò fra l'altro avviene in un contesto di collettiva disaffezione della vita politica del paese perlomeno partitica con solo il 50 per cento degli eventi diritto che ha votato e l'altro 50 per cento che si è astenuto una percentuale molto bassa anche per un paese che tradizionalmente non ha affluenze altissime cosa succederà adesso vi leggo qualche riflessione di giorgio fruscione sul sito di geopolitica ispi online se il record di due presidenti civici su tre si può leggere come un castigo elettorale contro i nazionalismi dall'altro lato questi resteranno dominanti in tutti i livelli inferiore dello stato bosniaco in particolare c'è da aspettarsi che svijanovic segua le orme del suo predecessore dodic e continui il boicottaggio con cui vuole riportare a livello dell'entità alcune delle già poche prerogative chiave delle istituzioni centrali per la bosnia zegovina il filo russismo di metà del suo territorio sarà quindi un ulteriore elemento di instabilità sia interna che regionale e se nell'altra metà i rapporti fra leader bosniacchi e croati sono stati compromessi per la disputa sulle riforme elettorali con l'intercessione univoca dell'altro rappresentante il quadro che ne esce è quello di un paese che al netto di sussulti dei suoi rappresentanti più riformisti rimane ancora ostaggio di un sistema che si autoalimenta con le proprie divisioni interne insomma un quadro a tinte abbastanza fosche quello dipinto da ispi online che vedremo come si evolverà nei prossimi giorni nei prossimi mesi io per oggi mi fermo qua vi do appuntamento a lunedì con una nuova puntata di io non mi rassegno sempre a partire dalle otto sui canali youtube spreaker e spotify nonché sulla pagina rassegna stampa del cambia.org pagina dove trovate anche tutte le notizie gli articoli che cito durante la rassegna e anche altre che vi segnalo per restare aggiornati sui fatti di attualità e vi saluto buon weekend e come un giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto